La morte è sopraggiunta con ogni probabilità per un malore improvviso che ha lasciato sgomenti familiari e amici e quanti hanno visto l'uomo accasciarsi al suolo. Per l'operaio, 67enne di Rotondi, non c'è stato nulla da fare, ma le indagini sul caso proseguono da prassi e la procura di Benevento ha formalizzato l'iscrizione nel registro degli indagati per il titolare della ditta e il proprietario del fabbricato dopo aver messo i sigilli solo all'area in cui si è verificato il decesso. L'ipotesi di reato per cui si procede è quella di omicidio colposo in concorso per la violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro. Una fatalità inevitabile o qualcosa nella organizzazione del lavoro andava rivista e ciò che i magistrati vogliono appurare a garanzia degli stessi indagati. Si attendono a tal proposito gli esiti dell'autopsia, poi la salma verrà liberata per l'ultimo saluto.